parte jesu cerca il secondo palo qui salva probabilmente sulla linea giocatore in maglia rossa risultando decisivo chi ha effettuato quel salvataggio insiste il cagliari la conclusione qui tentata da ariu grande risposta di carbone qualcosa in più devi attendere chiaramente anche la sfida di questa sera attenzione proprio i calabresi che hanno la prima occasione di questo secondo tempo allora a jesu pallone allargato per melis prende campo allarga la conclusione grande risposta ancora una volta di carbone tecnica dell'altra panchina attenzione al cagliari con jesu pallone dentro il controllo la conclusione ancora una volta carbone della cosenza il rilancio deve uscire il portiere che combina la frittata poi la conclusione di filippelli termina alta ma che rischio per il cagliari dare il gioco ariu viene incontro il dribbling prova a far tutto da solo con l'esterno allarga per jesu conclusione verso la porta palla fuori jesu ho defilato deve far tutto da solo ottima giocata la conclusione ancora giovanni carbone non è finita jesu due volte palla fuori battuta ad uscire sul secondo palo tutto solo qui il numero 17 miglia vantaggio cagliari 1 a 0 destro tentato da tullio se la cava il portiere non è finita pallone sul secondo palo ci prova consoli che scheggia la traversa si allontana jesu va melis raso terra la risposta del portiere poi il tap in vincente di ariu che la chiude così 2 a 0 cagliari e arriva il triplice fischio del direttore di gara il cagliari batte 2 a 0 il cosenza